Ciao mondo, allora mi è arrivato il pacco da Eco Verde non mettono più quelle cose bianche, non mettono sopra una carta allora siccome l'ho disfatto e facendo il video ho capito che non capivo cosa sono perché non capisco la lingua allora mi ha mandato due campioncini che questo qua è per le gambe stanche da Martina Gebhardt, quindi da provare, questo qua dopo mi ha mandato un altro campioncino crema per la pelle matura ne ho scritto là che così non so cos'è e dopo un bono di 10 euro da Zapper Zalando allora qua ho il foglio e comincio ho preso, a me mi sembrava questa marca una novità non so se è una novità perché io non l'ho vista però insomma non so se è una novità allora ho preso questo contorno occhi io ho finito quello da Martina Gebhardt piccolo che mi sono trovata diciamo bene, ne ho le rughe insomma qua però non è che mi sono sparite però una crema bella, bella corposa mi sono trovata bene, io l'ho finita, l'ho già mangiata su questa di Martina Gebhardt crema alla rosa io ho messo dentro il fondotinta quello da Vichy che era troppo scuro, dovevo prendere 35 e ho preso 36 o 37, non mi ricordo e l'ho mescolato con la crema di Martina Gebhardt allora quindi ho preso un contorno occhi con tutti questi frutti qua che mi fa proprio voglia di quando ho visto questi colori che fa impazzire allora un contorno occhi che è 6,17 euro dopo ho preso questo qua rimuove il make-up pulisce la pele impura quindi è una detergente per il viso è proprio bella con questi colori con questi frutti penso che l'odore è veramente buono 100 ml questo qua, allora, detergente che rimuove il make-up per la pele impura costa 4,27 euro quindi è costato più il contorno occhi che il detergente per il viso allora il terzo è un scrub anche questo con le frutte con... noni... noni... come si legge questa? Monique come? Monique Monique? Sì ma non vedo nessun M qua dove vedo M? Nonique 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 vabbè questo qua è il scrub per viso il scrub per viso costa 4,27 euro dopo ho preso detergente corpo anti grasso ho preso questo quanti ml è questo qua? 200 200 ml detergente per il grasso 5,22 euro dopo ho preso questa che è stupenda la scatola speriamo che ha un odore meraviglioso che è detergente viso però ha limone, avocado e questo qua che fiore è questo qua? questo che ne so io che ne so io si chiama il fiore è il fiore che ne so io sempre 100 ml fammi una cosa di curiosità questa roba qua mmm mi piace insomma non lo so mi ispirava tutti questi colori tutte queste frutte qua ma sono andata in tilt quando li ho visti quindi quello è il detergente per il viso dopo ho preso crema per pelle matura anche questo con aloe con la greffa con la voca con l'aloe li ho scritti qua che così mi capisco a questo qua allora detergente corpo era quello e detergente viso questa è crema per pelle matura 7 euro e 12 centesimi quindi dopo ho preso il tonico mi ispirava tantissimo tonico alle greffe all'aloe vera il tonico ha costato 4 euro e 27 dopo ho preso detergente delicato per la pelle secca e matura questo qua con tutti questi frutti qua che è una meraviglia e l'ultimo ho preso una crema a mani per la pelle secca perché ho veramente pelle secca oddio Nicola dovresti andare a prendere le sigarette crema vediamo questa qua mi lo metto un attimo per vedere i profumi mi ispirava questa questa marca con questi frutti sopra mi ispirava tantissimo buona che odore ha limone imbecille si scrive aloe vera e acai aloe vera noni blatter che sarebbe non so cosa e greffe e la crema a mani costava 2,90 euro insomma non male ho preso quanti prodotti ho preso 1,2,3,4,5,6,7,8,9 prodotti ma sono contenta ah cosa ho pagato ah no scusa 2,90 euro no no la crema a mani è 3,20 euro 3,32 euro 2,90 euro sono che cos'è è contrassegno ah contrassegno allora quindi senti che pelle morbida che ti lascia questa crema però quindi quindi sono contenta di provare per il viso per pelle matura per tutto quanto sono contenta che che mi è arrivato il pacco guarda che piccolo questo qua è guarda guarda roba è il dito il contorno occhi ovviamente che non ti può dare 2 kg di roba io quella da Martina Gebhard l'ho proprio mangiata l'ho finita vabbè mondo vi saluto questo è il pacco ecco verde grandice tanti prodotti mi sono contenta mi sono contenta perché non vedo l'ora di provare questo qua mi ispira a una cosa pazzesca perché è stupendo questo avocado con questo fiore che non so qual che fiore è e con lime riso e detergente detergente per riso lo potevo leggere sul loro sito vabbè mondo vi saluto vi mando un bacio alla prossima e buona Pasqua per noi la prossima settimana per i todossi